I geni dei nonni Guida sconosciuta Dunque, i geni sono elaborati in maniera tale che il corpo viene preparato in maniera adeguata. Perciò alcuni geni avranno un'influenza, altri no. In taluni casi i geni della madre avranno una maggiore influenza, in un altro quelli del padre. In un caso i geni dei genitori non opereranno affatto, in un altro i geni dei nonni o persino quelli di una prozia entreranno improvvisamente in azione. E tutto questo in modo tale che niente sia lasciato al caso. Ogni dettaglio ha una sua ragion d'essere. Il corpo fisico cresce nel grembo della madre anche se non è ancora realizzato il contatto con lo spirito. Con il corpo acasico dell'individuo con la sua coscienza, nota del redattore. Ma la procedura di preparazione procede in accordo con la struttura dei raggi spirituali, cioè con quei raggi magnetici che operano i loro effetti in modo adatto per questa particolare sfera. Ogni cosa si compie esattamente come previsto. Ogni cosa si compie esattamente come previsto. Ogni cosa si compie esattamente come previsto.